eccomi qua oggi non mi trovo lungo i canali ma mi trovo in un altro ambiente che mi piace mi piace frequentare sono le spinette della mia zona dove vengo di mattina a camminare in mezzo agli animali in mezzo tori cavalli daini e e questo è fa parte del mio territorio ecco qua anche questo è l'ambiente in cui in cui vivo chiaramente la prossima volta ci vediamo ci vediamo lungo gli argini anche perché ho ancora un conto in sospeso con l'amur nei canali secondari quindi nei piccoli affluenti che vanno a dirigare le nostre terre quindi la prossima volta ci vedremo lì bye bye ciao 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 Grazie a tutti